Allora, Elon vuole comprare Twitter, vi salto la menata economica, business, il board, la poison pill, kids and math. No, parliamo della libertà di espressione, perché è su quello che il buon vecchio Elon si è concentrato, dicendo, ragazzi, qua c'è il problema della libertà di espressione. Una piattaforma, Twitter o le altre piattaforme, Facebook e compagnia, dovrebbero garantire la libertà di espressione e di opinione. Bene. Tutti d'accordo su questo argomento, soprattutto direi quelli diversamente giovani come me, che hanno vissuto il primo internet, che era l'amore per la libertà di espressione. Oh, finalmente non siamo censurati dai media tradizionali che dicono solo quello che vogliono loro, ma tutti noi possiamo esprimerci online senza chiedere il permesso di nessuno. Era una figata mega galattica, cosmica, doppia libidine col fiocco. E allora voi capite che davanti a questa affermazione del buon vecchio Elon Musk, siamo tutti d'accordo filosoficamente, non c'è nessuno contrario. E soprattutto voi sapete che, voglio dire, sono stato il primo in Italia a parlare di Elon Musk, non sono senz'altro un detrattore del buon vecchio Elon. Ma in questa occasione mi ha fatto veramente riflettere, perché ho visto l'intervista con Chris Anderson, molto soft peraltro, sono amici, si conoscono, e davanti alla domanda, ma allora che cosa farai rispetto a Twitter se te lo porti a casa, eccetera? La risposta è Elon Musk per la prima volta. Da quando vedo un'intervista di Elon Musk penso, sai che non ne sa molto di questo argomento. Che strano, perché di solito uno gli chiede, senti Elon, ma che cosa pensi del tatuaggio fatto a mano mentre stai volando sull'elicottero nell'isola della Patagonia orientale impostata? E lui parte con una spiegazione molto dettagliata di quell'argomento. Cioè, su qualunque argomento è un fottuto fenomeno. Ma in questo caso mi ha fatto venire più di una perplessità, anche perché io ci vivo sui social. Sono dieci anni che vivo sui social. Prima avevo fatto una piattaforma di blog che avevamo, non so, centinaia di blog con centinaia di migliaia di commenti che si incasinavano, si impastrocchiavano. E l'argomento della libertà di espressione, libertà di opinione, e però adesso questo viene censurato. Ah no, ma perché l'hai bloccato? Ma l'hai bannato? Ma perché la piattaforma interviene in questo caso? Cioè, è un cinema che tu vivi come creatore di contenuti o imprenditore in questo settore giornalmente. Caliamoci nel problema allora. Problema numero uno. All'inizio eravamo in pochi ed eravamo solo early adopter o eravate solo early adopter, insomma, in base a quando sei entrato in internet. Era più facile avere una conversazione. Di lì il famoso discorso i mercati sono conversazioni. Bellissimo, fantastico. Poi però arrivano sette miliardi di persone. Quanti diavolo siamo sul pianetto? Bastano anche solo cento milioni di persone. I numeri cominciano a essere totalmente fuori controllo. Internet si trasforma da uno sparuto gruppetto di tecnici, nerd, appassionati, early adopters al mondo intero, con tutte le sue declinazioni. Perché come sappiamo l'umanità è varia, è variopinta, è variegata, è variologica. E a questo punto entrano tutte le possibili visioni, religioni, politiche, approcci, geografie. Qualunque tipo di menata dell'essere umano si travasa su internet e sui social di riferimento. A questo punto che cosa succede, secondo voi? Succede quello che succede nella vita reale. Miliardi di casini. Perché? Fai un esperimento nella vita reale. Metti insieme dieci persone. Poi ne metti insieme cento. Poi ne metti insieme mille. Poi ne metti insieme diecimila. Poi ne metti insieme centomila. E devi metterli d'accordo su un concetto. Prova a mettere d'accordo dieci persone su un semplice, basico concetto. Questa è una penna? Sì o no? Una roba di base. È nero questo giubbottino? Montemagno è pelato o c'ha i capelli? Qualunque sia l'argomento, ti rendi conto subito che, numero uno, mettere d'accordo le persone su qualunque sia il tema. Anche quello più scontato non è affatto così scontato. E numero due, che a prescindere dalle visioni diverse, che in molti casi uno può avere una visione diversa, no? Se alzi il livello dell'asticella e non dici questo è nero, questo no, a questo punto hai una visione diversa ed è anche il bello, no? Dell'esistenza. Il problema è che avere una visione diversa, una conversazione pacata, educata e gentile, è assai, assai complicato. In qualunque caso. Voglio dire, pelino ho fatto una volta un video di ping pong sul fatto che Jan Ove Waldner, che è stato il più grande genio della storia di ping pong, fosse il più grande genio della storia di ping pong. E mi hanno massacrato. Alcuni dicevano, ma no, non è vero, Malong ha vinto di più. Ma anche Malong faceva il blocco di rovescio impostato. Minacce. Cioè, delle robe che su un tema totalmente irrilevante vengono comunque fuori. Immaginati, se parli di politica, di chiesini, di grandi argomenti, non è possibile immaginare un'umanità che dialoga in modo tranquillo e educato, pacifico e a quel punto io rispetto la tua opinione, tu rispetti la mia, io ti lascio esprimere liberamente, anche se non condivido chi sei, cosa fai, ma ugualmente mi batto per te e tu fai lo stesso per me. Questa è pura utopia. Calandolo quindi nella pratica, vediamo che il concetto della libertà di espressione oggi, 2022, sui social, è assolutamente irrisolvibile e tutti gli amministratori delegati, le più grandi aziende al mondo di tecnologie e delle piattaforme, se fossero sinceri, dovrebbero dire ragazzi, noi non siamo in grado di risolvere questo problema. È un problema dell'essere umano, non possiamo risolverlo tecnologicamente. Però non lo possono dire perché se sei quotato in borsa devi dire no, ce l'abbiamo, guarda, adesso mettiamo 27.000 moderatori in più che poi, voglio dire, le aziende già lo fanno, ma non c'è una soluzione. Poveretti, gli chiediamo una roba che non è fattibile, non è possibile. anche perché, immaginati questa soluzione, o tu dici le piattaforme non fanno niente, quindi non moderano, non toccano nessun contenuto, ed è un'ipotesi, oppure ipotesi 2, qualcuno deve intervenire sui contenuti. Allora, premesso che, come sapete, io spero che il Web3 aiuti a avere una situazione migliore rispetto a quella attuale. Ma, se tu non fai niente, è un casino, perché domattina io organizzo 500 persone contro di te che vanno a spammare notizie false sul tuo conto. Se nessuno interviene, io la faccio franca, e tu hai la tua reputazione completamente sputtanata. Ingiustamente, perché magari sono notizie false. E questo, immaginatelo fatto con software, bot, algoritmi di intelligenza artificiale, organizzazioni criminali, concorrenti, sleali, il mondo del business, interi paesi che attaccano altri paesi. È un cinema, sei d'accordo? È un cinepraio da cui non se ne esce. Oppure, devi intervenire. Ma basta che tu interveni una volta. Spesso per punire un comportamento, neanche il contenuto. Pensiamo davvero che le piattaforme, sì, hanno i loro interessi, ma nella maggior parte dei casi vanno a punire un comportamento. Uno che inizia a bestemmiare ogni due minuti, insulta gli altri, ha degli atteggiamenti che anche nella vita normale se andassi in un bar lo cacciano fuori, succede la stessa cosa su una piattaforma. Ma nel momento in cui lo fai per uno, fine della libertà di espressione. E allora, tornando a Elon e la libertà di espressione, non è un problema tecnologico, non è da scrivere a un miglior algoritmo. Qua è un problema di istruzione, è un problema di educazione, è un problema che le persone non si conoscono bene, è un problema che le persone non si sanno relazionare con gli altri, è un problema che siamo una marea di ignoranti che pensiamo su qualunque argomento di essere dei premi Nobel, ci devo fare un video su questo. Pensarlo come un problema risolvibile tecnologicamente significa fare lo stesso errore che lo stesso Elon ha dichiarato di aver fatto con l'auto a guida autonoma, quando diceva che l'auto si guidava da sola e sarebbe arrivata in un anno secondo. E ad oggi ancora non è così, ci arriverà, senz'altro ci arriveranno, ma ci hanno messo un sacco di tempo in più perché per risolvere il problema dell'auto a guida autonoma prima devi risolvere il problema dell'intelligenza artificiale, devi creare un sistema capace di analizzare quello che c'è intorno, ricordarsi se passa un passante che poi esce dall'altro lato, quindi il sistema deve avere anche una memoria, deve essere in grado di comprendere un flusso video, è un diavolo di casino. Qua è la stessa cosa, vuoi risolvere il problema della libertà di espressione? Prima, a monte, devi risolvere il problema dei problemi, che è gli esseri umani. Good luck Elon.